Alla fine da come è andata la partita mi sembra un pareggio giusto. La Tallanta quest'anno ha dimostrato di avere un gruppo molto importante che sicuramente non è per caso in questa posizione in classifica. Sapevamo che dovevamo affrontare una squadra molto atacante, molto aggressiva. Abbiamo iniziato molto bene, tutti i ragazzi hanno dato il massimo. Avevamo qualche occasione, abbiamo segnato un bel gol. Alla fine è un punto che ci dà un forzo di andare avanti ancora di più. Era un primo tempo quasi perfetto, hai fatto molte belle parate. Poi abbiamo visto che ti sei arrabbiato e non poco sul gol. È andato qualcosa di sbagliato nelle marcature sul corner. Sì, era un gol sul calzo d'angolo. Mancava poco di finire il primo tempo. Sempre il portiere quando prende un gol a questo caso si arrabbia un po'. Però dobbiamo essere più attenti in queste cose. Perché soffriamo tanto di segnare qualche gol. Quindi dobbiamo essere molto attenti dietro. Quelle disaltezioni che avevamo in passato di non averli più. Siamo facendo molto meglio. Sicuramente vogliamo fare ancora di più. Anche perché un'ultima considerazione. Oggi era importante dare risposta a quello che era successo a Bologna. E far capire che è stato davvero un pomeriggio storto lì e poco altro. Perché l'Udinese è comunque sulla buona strada. Sì, è stata una brutta parentesi. Ero anche un po' di sfortuna in quella partita. Abbiamo iniziato dal primo minuto. Ho subito un autogol. Poi è arrivato anche un terzo autogol. Poi con due autogol. In momenti difficili non potevamo fare tante cose. Sicuramente era una brutta sconfitta. Da una parte di dimenticare subito. Però dall'altra parte prendere tutte lezioni che può avere una partita tipo questa. Già in passato abbiamo dimostrato una prestazione molto importante. In generale è un campionato positivo. Dopo negli ultimi anni di sofferenza. Sicuramente mancano poche partite di fare al meglio possibile.